La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica. La misura riguarda sei persone fortemente indiziate di aver commesso il reato di lesioni in concorso, aggravate per aver determinato o avvalendosi di un minore nella sua commissione, nonché per aver agito per futili motivi in un contesto di più persone riunite. Le indagini condotte dalla sezione Reati contro la persona della squadra mobile hanno evidenziato che i sospettati in gran parte minorenni sono accusati di aver perpetrato lesioni personali aggravate contro vittime vulnerabili all'interno di discoteche nel centro storico cittadino, senza apparente ragione o per futili motivi. Gli episodi in questione avvenuti rispettivamente l'11 febbraio e il 2 marzo 2024 sono stati documentati grazie alle testimonianze dei testimoni, delle vittime agli apparati di videosorveglianza. Nella prima occasione durante i festeggiamenti di carnevale, un gruppo di giovani ha molestato una ragazza e ha provocato lesioni a quattro persone intervenute in sua difesa. Uno studente universitario è stato aggredito senza motivo da un gruppo di circa 20 persone, causandogli lesioni che hanno richiesto una settimana per guarire da un tramacranico lieve. Gli indagati sono stati rintracciati nelle loro abitazioni il 20 giugno 2024 e sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, ad eccezione di uno che risulta irreperibile.